Prosegue a Catania l'attenzione della Polizia di Stato nei quartieri del centro della città. Le azioni di controllo, coordinate dal Commissariato di Pubblica Sicurezza Centrale e dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno visto l'intervento del Commissariato San Cristoforo, del Reparto Prevenzione Crimine, del Decimo Reparto Mobile, della Polizia Scientifica unitamente alla Polizia Locale. I controlli sono stati effettuati in giornate ed in orari differenti con l'obiettivo di rendere le verifiche più incisive ed imprevedibili.